Una targa a ricordo di Carlo Salio, una grande persona, un grande pavese soprattutto, che noi ricordiamo con grande cuore, che è stato presidente della motonautica, presidente della Croce Verde, è stato piloto, presidente dell'ACI, quindi una persona che si è distinta in tutta la sua vita, e una persona che tutti ricordiamo con grande cuore, che qualcuno diceva, usando un termine pavese, se le vuole un dicembre, guarda un po' che si fa, quindi con queste imprese che lui faceva attraverso l'aeroplano, e di conseguenza con questo grande cuore che aveva, e grande amore per quanto riguarda la nostra città. Stamattina abbiamo intitolato questa parte di pista ciclabile a Carlo Salio, una persona, è un personaggio pavese, conosciuto da tanti pavesi per l'attività svolta, per le sue imprese importanti, che sono state raccontate dai protagonisti e dai rappresentanti delle associazioni che Carlo Salio ha contribuito a fondare qui a Pavia. E sono le stesse associazioni, l'ACI, la Croce Verde, il Panathlon, l'aeronautica e la motonautica pavese, che hanno promosso questa iniziativa, questa iniziativa di intitolare questa pista ciclopedonale a Carlo Salio, e che l'amministrazione ha accolto di buon grado, in particolare io come assessore allo sport, perché alla fine sono tante le imprese sportive che sono state organizzate o portate sul territorio grazie a Carlo Salio. Quindi oggi è una giornata che ricorderemo, ce ne saranno anche altre, perché abbiamo ricevuto anche altre richieste da parte di altre associazioni sportive di titolare vie o zone della città, personaggi che hanno fatto la storia dello sport pavese. Quindi noi saremo ben lieti di proseguire su questa via. Grazie.